Io mi chiamo Marco Renzi, sono un giornalista e organizzo da un po' di anni questa manifestazione che si chiama Digit, che è nata a Firenze e poi emigrata a Prato e dall'anno scorso si comincia a spostare anche in giro per l'Italia, abbiamo fatto una data a Roma, l'abbiamo fatta a Torino quest'anno faremo quattro manifestazioni oltre a questa di Prato e gireremo un altro po' di piazze in giro per l'Italia Cos'è Digit? Digit è una manifestazione che fa intanto forse qualificata per giornalisti quindi c'è l'erogazione di crediti formativi e poi parliamo di cultura digitale, di mondi digitali La manifestazione di quest'anno che comincia appunto oggi qui a Prato e che poi proseguirà in altre piazze come Milano, Venezia e Torino è dedicata a molti temi il tema principale, quello su cui ci siamo concentrati, quello su cui vorremmo discutere e che cercheremo di presentarvi per l'appunto proprio stamattina è il tema del 5G non so se avete visto, all'ingresso avevamo anche la nostra bella manifestazione di protesta quindi insomma ci hanno sdoganato anche in questo senso, la cosa ci rende molto orgogliosi in realtà speriamo che non ci sia nulla di cui protestare poi i professori che stanno sperimentando proprio questa tecnologia spero ci possano un pochino illuminare anche da questo punto di vista direi di rispettare il rituale, quindi passerei la linea e il microfono all'assessore Benedetta Scuitieri che ci fa gli onori di casa essendo noi qui a Prato e parlando a nome del Comune Sì, buongiorno a tutti, grazie Marco e grazie a tutti voi di essere qui stamani per noi, per il Comune di Prato, diciamo il digit ormai è un appuntamento annuale che è anche abbastanza atteso, nel senso che fin dall'inizio da quando noi ci siamo insediati, quindi ormai sono 5 anni abbiamo contribuito alla realizzazione di questa manifestazione perché consideriamo il tema del digitale un tema decisivo nello sviluppo anche della nostra città e pensiamo che prima di tutto, oltre che a un tema tecnologico cioè a che cosa le tecnologie possono realizzare e poi ne parleremo meglio, entrando nel merito in particolare del tema del 5G ma noi pensiamo ci sia bisogno anche di una diffusione o di una condivisione della cultura del digitale cioè a che cosa serve, quali sono le potenzialità del digitale oggi e soprattutto quali sono le sfide che ci pone di fronte da questo punto di vista ogni anno, come dire, la discussione è sempre molto interessante nel digit, è dell'anno scorso secondo me la nota più interessante di quando il professor Rosetti ci disse che nel 2016 avevamo prodotto nel mondo una quantità di dati pari a quella che era stata prodotta nella storia dell'uomo precedentemente e che nei prossimi anni raddoppieremo la quantità dei dati che produrremo ogni 12 ore questo vuol dire che la sfida che noi abbiamo di fronte non è soltanto tecnologica ovviamente, ma è anche una sfida democratica una sfida di relazione il tema delle tecnologie cambia la relazione fra le persone cambia la relazione tra i cittadini e le istituzioni e quindi, come dire, avere nella nostra città momenti di approfondimento di formazione e di confronto su questi temi è sicuramente per la città di Prato un valore aggiunto rispetto al quale, come dire, come comune non solo ci sentiamo di far parte di questa discussione ma anche di contribuire effettivamente affinché sia possibile realizzare queste manifestazioni come digit nella nostra città da questo punto di vista, quindi oltre a ringraziare Marco Renzi per aver scelto anche la nostra città per fare questa manifestazione voglio ringraziare anche il PIN il Polo dell'Università di Firenze la sede di Prato dell'Università di Firenze che però non è soltanto la sede dell'Università di Firenze di Prato il PIN è un luogo interessante per Prato un luogo dove pubblico e privato producono formazione, alta formazione e progetti di relazione anche tra le imprese e il mondo della ricerca e anche questo è un valore aggiunto soprattutto nei temi delle nuove tecnologie quindi credo che anche dalla mattinata di stamani possa venire fuori anche questa caratteristica della nostra città e quindi le ringrazio come dire poi all'inizio non eravamo al PIN a fare il digit il connubio credo tra digit e PIN sia un ulteriore valore aggiunto per questa manifestazione quindi vi auguro buon lavoro in queste giornate per queste due giornate e soprattutto vi porto come dire i saluti anche del Sindaco e di tutta l'amministrazione comunale grazie c'è in sala un altro rappresentante dell'autorità che adesso chiamerò a dirci qualcosa che è molto importante è molto importante il ruolo di questa autorità è un'autorità che è divisa sul territorio italiano in tante sedi regionali che si chiamano Corecom e che poi ha un'unità centrale che si chiama Agicom che è una delle autorità che è appunto l'autorità garante delle comunicazioni che più di tutti in questo periodo della nostra esistenza in questo periodo della storia dell'uomo insomma sorveglia, vigila, fa svolge una serie di funzioni riguardo il giornalismo e l'attività del giornalismo l'Agicom è molto vigile e sta facendo una serie di interventi molto interessanti anche attraverso appunto le sue emanazioni sul territorio che sono appunto i comitati regionali delle comunicazioni che sono i Corecom quindi inviterei Enzo Brogi che è il presidente del Corecom della Toscana a portarci il suo saluto grazie grazie, buongiorno grazie Assessore ai relatori per l'occasione che ci date che mi date di portare il saluto del Corecom che come Renzi illustrava è un po' l'autorità di garanzia sulla comunicazione nel territorio e nel nostro caso nella Toscana ci occupiamo di alcune cose che citava adesso Renzi ci occupiamo però anche e lo faccio con grande orgoglio della difesa degli utenti dei cittadini per esempio rispetto a tutte le aggressioni che quotidianamente ci vengono per esempio dalle compagnie telefoniche faccio solo un dato pensate che nel 2018 sono stati 3.700 i cittadini della Toscana che sono stati tutelati dal Corecom rispetto alle compagnie telefoniche sono oltre 3 milioni di euro che cittadini o aziende hanno recuperato quindi noi svolgiamo un compito che riteniamo assolutamente importante ma soprattutto al servizio dei cittadini ma il convegno di oggi ci interessa in modo particolare perché affronta appunto come ci ricordava poc'anzi anche l'assessore tutti i temi legati alla comunicazione ai nuovi mezzi di comunicazione io stamani mattina per arrivare qua ho preso il treno dal Valdarno dove abito Montevarchi una stazione completamente rinnovata e tecnologicamente perfetta con tutti gli accessi come si deve ma la edicola era chiusa l'edicola di Montevarchi alla stazione che è una caratteristica del mondo pendolare dagli studenti ai lavoratori non c'è più e questo è un tema che sta dentro il dibattito che oggi affrontiamo sono salito sul treno ho fatto due carrozze per trovare al posto a sedere neanche una persona ha più un quotidiano che sta leggendo e questo è il tema della discussione certo tutti collegati neppure più parlano discutono né della Fiorentina né delle opportunità che questo governo ogni giorno ci dà per discutere perché tutti sono da soli in solitudine collegati con l'apparecchino che hanno in mano e allora ecco che per me che ho sono appartengo a una generazione in cui il PC era il partito comunista italiano o l'SMS era la società di mutuo soccorso oggi che anche il PC e l'SMS è stato superato da Instagram e da Telegram diventa il tema che voi affrontate un tema di grandissimo interesse e il Corecom in questo dibattito ci vuole stare con tutte le potenzialità che noi abbiamo e con l'attenzione e la sensibilità che soprattutto per gli studenti ma anche per gli operatori dell'informazione e per i docenti divengono elementi fondamentali ecco perché siamo qua perché siamo interessati al dibattito che si svilupperà dopo sui 5G al dibattito che ci sarà su tutto l'uso anche democratico degli algoritmi e del fatto che molti di noi aprendo la nostra pagina Facebook e magari vediamo che ci mettono sempre in contatto con alcuni amici e ce ne escludono altri o perché tutte le dinamiche legate al mondo che maggiormente sta a cuore a Renzi cioè quello della editoria digitale che è un'editoria strumento oramai importantissimo ricordavo appunto la chiusura dell'edicole ma l'apertura di tutta l'informazione digitale che è aperta che è libera che è immediata che pone il compito anche al giornalista assai diverso rispetto a quello che era prima perché oggi basta che un cittadino si trovi di fronte a una notizia e la possa fotografare e l'istante successivo la posta nel suo strumento nella sua baccheca social che diventa sia una notizia importante oggetto di attenzione dell'informazione quindi tutti questi temi sono per noi centrali perché stanno nella democrazia non solo nell'informazione ma nella democrazia e nella cultura e sono le cose per le quali noi ci battiamo grazie grazie a Enzo Brogi Presidente del Corro ma io ho visto che è arrivato il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni a cui cederei molto volentieri la parola Buongiorno grazie e complimenti per l'iniziativa che si propone quanto mai attuale e devo dire che è giusto che avvenga a Prato perché Benedetta Squittieri l'assessore competente ha fatto un grosso lavoro lei e con il sottosegretario allora il sottosegretario Giacomelli è Prato una delle città che sperimentalmente si è proposta in quel progetto che io ritengo a livello nazionale sia stato di grande significato che ci porta a ragionare proprio sulla comunicazione ancora prima che sul giornalismo digitale affrontando una questione che è una questione della rilevanza che ormai la comunicazione ripeto la comunicazione ancora prima che il giornalismo digitale assume oggi e contemporaneamente problemi che sono problemi a mio giudizio anche di diritto costituzionale sulla capacità di intervento che dobbiamo porre non dimentichiamoci che uno dei principi fondamentali nella società di oggi è il principio di come rendere effettiva il valore che anima il nostro tessuto democratico ovvero il senso di libertà e il concetto di libertà da un punto di vista del diritto è sempre stato visto come un equilibrio fra la possibilità di esprimersi e i limiti che a questa devono derivare dal rispetto verso gli altri noi siamo autenticamente liberi nel momento in cui rispettiamo la libertà degli altri conseguentemente il concetto per cui una comunicazione deve essere corretta imparziale si propone su quello che sono poi il mezzo di comunicazione che l'era digitale ha portato con quello che è la compatibilità con davvero riuscire a rispettare che la comunicazione avvenga per tutti senza quella dimensione che sta diventando dirompento della fake news dell'ingiuria dell'individuazione nell'altro di condizioni che poi lo turbano fino al suicidio io ricordo quando proprio attraverso il Corecom con la gestione precedente a Enzo Broggi che parlava prima di me ho avuto modo di vivere in un'assemblea scolastica la drammatica testimonianza del padre di una ragazza di 14 anni bella solare una ragazza in gambissima per come ci veniva destritta che attraverso il condizionamento dei social la maldicenza con cui fu additata arrivò a 14 anni a togliersi la vita esaspero il concetto per far capire cosa oggi significa la fake news cosa oggi quindi significa la corretta informazione la corretta comunicazione che passa attraverso i social questo è uno degli elementi ma è evidente che sul piano della comunicazione poi le questioni si pongono in termini appunto di veicolazione di informazioni e di notizie che sappiamo bene non sono ancorate a quello che a mio giudizio è l'attuale sistema penale con cui si vuole punire ad esempio la diffamazione la diffamazione nel momento in cui già il sistema di comunicazione passava attraverso i giornali era un concetto di cui spesso si lamentava l'inefficienza del nostro sistema penale non solo la diffamazione l'enfatizzazione delle notizie io ricordo classi di amministratori pubblici che per un avviso di garanzia che doveva essere posto a sua tutela si trovavano per giorni e giorni soffocati da paginate intere su presunti illesciti salvo 4-5 anni dopo quando l'amministratore aveva cessato di svolgere le sue funzioni pubbliche proprio per questo la notizia che lui su quell'episodio che aveva dominato le pagine dei giornali per mesi veniva assolto con formula piena per non aver commesso il fatto la notizia veniva trasferita con un piccolo trafiletto ne lamentavamo questo quando l'informazione era un'informazione prevalentemente cartacea sui social tutto questo addirittura si enfatizza io guardavo l'altro giorno il caso che riguardava un carissimo amico ancora ciò che lo caratterizzava per una vicenda che aveva avuto rilevanza penale e che si è conclusa per non aver commesso il fatto andando a richiamare da google il suo nome appariva sui social esattamente così come fosse attuale e ancora sempre presente quindi probabilmente anche da un punto di vista della individuazione a mio giudizio delle sanzioni penali per chi induce le fake news per chi mantiene impropriamente ciò che è già dimostrato falso come se fosse attuale attraverso la dimensione della rete dei social sono aspetti che riguarderanno diciamo de jure condendo il costruire un sistema diciamo di leggi che renda equo i comportamenti che sono assolutamente incompatibili con i nostri valori e il nostro sistema costituzionale è un tema che si porrà non era insufficiente il concetto di diffamazione quando era solo carta stampata figuriamoci oggi con tutta la dimensione che significa la rete e i social vi è il terzo elemento accanto al concetto di libertà accanto al concetto di rivedere sanzioni di carattere penale che possano fare da deterrente ai comportamenti scomposti e diciamo a mio giudizio moralmente illeciti che possono passare attraverso i social terza dimensione la vera efficacia della comunicazione e qui entriamo davvero nel giornalismo io ritengo che oggi la trasformazione che citava Enzo Broggi correttamente è sotto gli occhi di tutti io compirò 60 anni prossimo 30 di giugno mio figlio che ne ha 20 e che fa il primo anno di università quando mi vede portare a casa i tre giornali ogni sera che io compro ormai l'amministrazione pubblica su questo non ricorre a benefit compro di tasca con il giornalaio che la mattina vado a prenderli mi presenta il pacchetto la reazione è costantemente babbo ma dove butti via soldi dico babbo Gabriele sono il presidente del consiglio regionale se compro tre giornali oltre quello che poi sarà il ricorso alla rete mi sembra naturale devo dirvi che poi ci rifletto perché vedo mio figlio a 20 anni ultra iper informato sa di tutto per lui la dimensione del giornale cartaceo non esiste e mi rendo conto che poi quando i nostri direttori dei giornali ci fanno vedere il costante la costante diminuzione le loro copie e contemporaneamente l'innalzamento dell'accesso attraverso internet all'informazione digitale mi rendo conto che ormai è irreversibile il corso dove andremo certo posso reagire dicendo ma sfogliarsi il giornale riguardare una pagina di qua e la pagina di là è una sensazione unica che mi aiuta all'approfondimento ma sono espressioni che sono vere ma rischiano di diventare semplicemente un'autogiustificazione di un modello che io ho assimilato nella mia cultura ma che non è nella cultura del millennial e delle future generazioni conseguentemente penso anche alla dimensione del libro anche se sul libro mi sento più convinto che mai noi potremmo diciamo sostituire una funzione specifica del libro cartascio basti per questo e questo perché sul libro io invito alla cautela nell'approccio alla nuova dimensione digitale basti per questo pensare ciò che mi diceva qualche tempo fa quando con la direttrice della biblioteca nazionale mi recai a una trasmissione io ero allora assessore alla cultura al comune di Firenze che sul Rai 1 veniva data la mattina parlando e approfondendo del tema del passaggio dal libro cartascio al libro digitale la direttrice mi diceva sai Eugenio noi potremmo dare una data che è proprio a cavallo del millennio fra la fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 del resto se andate a riguardare su Google per ricercare i riferimenti agli argomenti ci rendiamo conto che è un po' quello il periodo in cui ormai la banca data universale ci viene data da internet dice in quel periodo tutto ormai si sostituisce con l'informatica però ricordati che quando noi andiamo a rivedere con i supporti digitali quello che sono dai primi microfilm alle varie fasi successive ecco te trovami le biblioteche che hanno tutti i supporti che si sono susseguiti dal microfilm al CD a tutti i vari supporti flop e le attuali continuamente innovative strumentazioni per la lettura rischi di poter avere già l'impossibilità di accedere a documentazioni che sono solo sul piano informatico di 10-15 anni fa e questo è un tema che ci porta a mio giudizio a considerare sempre la necessità e l'utilità di un supporto cartascio anche se è evidente quando in biblioteca nazionale a Firenze hai 7 milioni di testi fisicamente rappresentati con riviste con libri e con tutto ciò che l'editoria ha potuto fornire è indubbio che l'aspetto del supporto digitale si inserisce ma ripeto sull'editoria io mi sento più cauto proprio per la necessità di evitare che una memoria collettiva anche solo di 15-20 anni fa ci appaia lontana da raggiungere ben più di un libro edito 400 anni fa per quanto riguarda il giornalismo è evidente che noi ci troviamo di fronte oggi sempre più al supporto digitale che però consentitemi ci porta in una dimensione che è una dimensione di interpretazione dei livelli di diciamo ricerca della notizia che ha problematiche proprio di accesso proprio di controllo proprio di legittimità nel rispetto etico dell'informazione su cui il livello normativo è importante su cui sarà necessario un confronto in occasioni come queste fra tecnici fra figure che possano tradurre in norme la correttezza dei principi che all'inizio evocavo con una consapevolezza che l'amministrazione pubblica sul digitale deve investirci e deve investire tantissimo con la consapevolezza poi che chi riuscirà a vivere questa dimensione sarà colui che si propone vincente già alle elezioni noi abbiamo visto come Trump si è arrivato nonostante c'era ieri a un convegno un gruppo di studenti americani a cui dicevo siete amici di Trump e si ribellavano Trump ha vinto attraverso questi sistemi la capacità di condizionamento è stata fortissima anche in altri momenti elettorali cioè la capacità attraverso il giornalismo digitale e attraverso l'uso dei social di poter condizionare la dimensione del potere è fortissima e noi concludo con questo dobbiamo sempre avere presente come scenario da non percorrere quello che io ho vissuto in un libro fondamentale nella mia generazione Orwell 1984 l'idea del grande fratello che in un paese di apparente democrazia e libertà riusciva a entrare nella mente di ciascuno e a eliminare come una morte bianca tutti coloro che non erano parte complici passivi di un sistema che poi diventava fortemente autoritario grazie e complimenti per l'iniziativa grazie grazie Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni noi entriamo subito nella manifestazione entriamo subito nella tematica il Presidente Gianni ha sollevato una serie di questioni che sono tutte evidentemente molto stringenti e che attengono in modo come dire preciso alla realtà che viviamo tutti i giorni una questione su tutte mi sento di sottolinearle quella della cultura l'accesso al mondo digitale che giusto qualche giorno fa ha compiuto 30 anni in particolare il World Wide Web ha compiuto 30 anni e quindi non è più una rivoluzione ma è la nostra vita tutti i giorni e quindi forse la parte culturale la parte che ci permette di accedere in modo concreto a questo mondo forse è quella che andrebbe un pochino curata di più di più Grazie a tutti.